Mentre il medico studia l'ammalato rischia seriamente di morire, Avellino continua ad essere tra le città più inquinate d'Italia. Il sindaco Festa fa il punto della situazione, ma sembra essere chiaro su due punti. Non ci sarà nessun blocco del traffico ad autunno, perché il traffico, dice, non incide sul PMI-10, e vanno ricercate le cause vere dello smog che intanto attanaglia il capoluogo. Quindi il medico continuerà a studiare. Provando il bilancio, finalmente avremo anche i fondi per avviare quegli studi di cui abbiamo parlato. Per la verità, uno studio è stato già pubblicato da un nostro conterraneo, un ricercatore cucciniello, che ci ha dato un po' la conferma di quella che, per la verità, è stata anche un po' la mia posizione, cioè il traffico veicolare non incide sui PMI-10, sui PMI-2,5. Poi vi invito anche a fare una valutazione sulla presenza di due centraline che distano linee d'aria a 750 metri, delle quali ad oggi una segnala 30 sforamenti e l'altra 38. Ora, posto che mediamente una centralina potrebbe anche misurare i livelli di inquinamento per 250.000 abitanti, noi ne abbiamo due in città, quindi 50.000 abitanti, distanti 750 metri, ma c'è un tema. Perché a 750 metri di distanza abbiamo 30 e 38 sforamenti? Oggettivamente credo che, oltre alla valutazione sicuramente necessaria rispetto ai motivi dell'inquinamento, bisognerebbe anche comprendere perché c'è questa discrasia, ripeto, a 750 metri di distanza. Alla luce di studi scientifici e direi, se ricordate, alla luce anche di quanto è accaduto durante il lockdown, se fate mente locale, nel periodo di marzo dello scorso anno, quando erano chiuse scuole, uffici, attività commerciali, non circolavano bus e auto e non c'era neanche freddo, per cui anche gli impianti di riscaldamento casalinghi non funzionavano a pieno regime, nonostante questa condizione, comunque subimmo sforamenti. Questo è il motivo per cui è necessario comprendere, studiare i motivi che portano all'inquinamento in città, al sforamento dei livelli di PM10, però vi ribadisco, ad oggi, qual è il dato che deve essere considerato? 30 del quinto circolo o 38 di via d'antereghieri? Perché significherebbe che poi via Piave è inquinata, via Scandone no. Sarebbe un paradosso per una centralina che in realtà misura i dati anche per quello che accade alla Tripalda, Monteforte e Mercogliano, ma questo solo per dare contezza di quello che accade nella misurazione.